La meditazione del punto zero Benvenuto in questa meditazione La meditazione del punto zero Lo scopo di questa meditazione è farti comprendere come Dio ha creato l'universo e come l'universo è composto Una volta compresa questa meditazione sarà in grado di vedere esattamente come l'universo è diviso in due perfette parti e come trovare il centro di queste parti e quindi il tuo centro Procediamo Adesso puoi metterti le cuffie oppure alzare il volume del telefono Togli le notifiche dal telefono e chiuditi in una stanza in modo da non avere nessun tipo di distrazione Siamo pronti Adesso rilassati e porta la tua attenzione sulla tua fronte Puoi vedere come la tua fronte è completamente rilassata Così sono rilassate anche le tue orecchie e il tuo mento Il tuo viso è completamente rilassato Adesso porta l'attenzione sulle tue braccia e sulle tue spalle Le tue braccia e le tue spalle sono completamente rilassate Adesso porta l'attenzione al tuo patto e al battito del tuo cuore Il tuo petto è completamente rilassato Adesso porta l'attenzione alle tue gambe e ai tuoi piedi Le tue gambe e ai tuoi piedi sono completamente rilassati Benissimo Tutto il tuo corpo è completamente rilassato E adesso io conterò fino a tre E al mio tre Entrerai in uno stato di profonda meditazione E sarai in grado di entrare all'interno dell'universo E di trovare il tuo perfetto centro E uno Il tuo corpo è completamente rilassato Stai per abbandonare ogni tipo di resistenza La tua mente è libera E sei pronto ad entrare in questa fantastica meditazione E due E tre Perfetto Adesso ti trovi all'interno di una stanza La riesci a visualizzare? Guarda bene Il soffitto I muri Il pavimento Osserva questa stanza Adesso conterò fino al tre E al mio tre Apparerà nella tua mano Una matita Uno Due Tre Perfetto Adesso Andremo a fare lo stesso procedimento Che fece Dio Quando creò l'universo Ha semplicemente creato un cerchio E ci è entrato all'interno Una volta entrato all'interno Questo cerchio l'ha risucchiato come un buco nero E si è trovato nell'universo Ti chiedo adesso Ti chiedo adesso Di prendere questa matita E di disegnare un cerchio nero Con molta calma Per terra E di seguire con gli occhi Piano piano la tua mano Che chiude il cerchio Perfetto Il cerchio è stato chiuso Al mio tre Puoi vedere che questo cerchio diventa completamente nero E uno E due E tre Benissimo Abbiamo creato il cerchio nero Come la pupilla dei tuoi occhi La cosa che unisce tutto a tutti L'origine dell'universo Un cerchio nero Al mio tre Entra all'interno di questo cerchio E Lasciati risucchiare Dal cerchio stesso Per trovarti Nell'universo E uno E due E tre Benissimo Sei entrato nel cerchio E il cerchio ti ha risucchiato al suo interno Adesso puoi osservare Che ti trovi In un universo Completamente nero Completamente oscuro Questo universo E' chiuso Ha dei limiti Ed è Un grande cubo Osserva questo cubo Avvicinati ai suoi limiti Ai suoi confini E prova a misurare I confini di questo cubo La misura che ti esce E' una misura di 50 Ogni lato del cubo Ha misura 50 Adesso dimmi Come ti senti All'interno di questo cubo Osserva le tue emozioni Osserva i tuoi sentimenti E le tue paure Puoi osservare Che questo cubo Rappresenta la tua mente Ma non è completa Non è ancora il tuo centro Senti che manca Una parte Senti che qui Hai paura Di perdere energia Hai paura Della morte Non comprendi L'infinito Sei limitato All'interno Di questo cubo Adesso Al mio tre Di fronte a te Di fronte a te Comparirà uno specchio Questo specchio Funge da passaggio Per farti esplorare L'altra parte dell'universo Adesso conterò fino a tre E al mio tre Comparirà questo specchio E uno E due E tre Perfetto Adesso Osserva lo specchio Cosa vedi all'interno? Cosa vedi riflesso? Come è fatto il tuo corpo? Osserva attentamente queste immagini E osserva Le tue emozioni A guardarti Riflesso in questo specchio Adesso Conterò fino a tre E al mio tre Puoi vedere Che attorno a questo specchio Nei suoi lati Appaiono delle perfette sfere di luce Al mio tre Appariranno Sette sfere a destra Sette sfere a sinistra Sette sfere in alto E sei sfere in basso Attorno allo specchio Queste sfere Rappresentano Le luci maestre Delle parti della tua coscienza Che ti indicheranno la strada giusta E uno E due E tre Perfetto Di fronte a te quindi Hai lo specchio con tutte le sfere A queste sfere Puoi fare delle domande Puoi comunicare Adesso Chiedi a queste sfere In maniera telepatica Dove ti trovi? Probabilmente Probabilmente Ti diranno Che ti trovi all'interno Della tua mente Osserva le risposte E fai Qualunque tipo di domanda Ti venga in mente In questo momento Puoi chiedere il perché Di alcune tue paure Il perché dei tuoi problemi E come Risolverli Ti lascio qualche secondo Per comunicare con queste sfere È vero Come Per comunicare con queste sfere La prossima benissimo è arrivato il momento di esplorare il secondo universo l'altra parte di te al mio 3 ti chiedo di attraversare lo specchio di entrarci dentro e di arrivare dall'altra parte dello specchio è uno è due è tre perfetto ti trovi in quest'altra parte dell'universo e come puoi osservare da solo? qui non esistono limiti non esistono confini ti trovi nell'infinito come ti senti in questa parte? osserva le tue emozioni osserva i tuoi pensieri osserva i tuoi sentimenti probabilmente ti senti unito al tutto senti questa grande energia di espansione e di infinito che non conosce i limiti ma anche qui puoi sentire la tua incompletezza puoi osservare che ti manca uno scopo ti manca un fine da raggiungere adesso ti chiedo di osservare nuovamente lo specchio da questa parte nella parte dell'infinito com'è il tuo corpo in questo lato dell'universo? che forma ha? adesso prova ad osservare nuovamente lo specchio ma con gli occhi del cuore ti chiedo quindi di fare un piccolo sforzo e di guardare con il tuo cuore questo specchio ed osservare attentamente il riflesso che appare nel vetro nello specchio benissimo anche in questa parte ti chiedo di comunicare con queste sfere di luce domandagli dove ti trovi chi sei in questo momento quali sono le sfide da superare in questa parte dell'universo ti lascio qualche secondo per comunicare telepaticamente con queste sfere di luce perfetto adesso hai compreso sia come funziona l'universo finito che l'universo infinito hai compreso come agisce il tuo inconscio la tua mente la tua anima all'interno dei due universi è il momento di riunire il tutto e di trovare il tuo perfetto centro ti chiedo quindi in questo momento di girarti di lato e di guardare allo specchio la tua spalla adesso fai un passo e posizionati perfettamente al centro dello specchio in modo da avere un occhio nell'universo finito e un occhio nell'universo infinito con lo specchio che taglia perfettamente a metà il tuo corpo puoi vedere in questo momento che lo specchio divide a metà la tua fronte il tuo naso il tuo mento e il tuo busto adesso hai la visione contemporanea del finito e dell'infinito manca solo l'ultimo procedimento per arrivare a comprendere davvero chi sei per arrivare a comprendere qual è il tuo punto zero qual è il tuo centro quando conterò fino a tre usciranno esattamente quattro sfere sul tuo corpo la prima sfera uscirà sul tuo occhio dove puoi vedere l'infinito l'altra sfera uscirà nel tuo occhio dove puoi vedere il finito un'altra sfera uscirà nel tuo occhio centrale che ha la visione contemporanea delle due parti delle due parti dell'universo ed infine uscirà una quarta sfera nel tuo cuore al centro queste quattro sfere formeranno un triangolo verso il basso con il vertice verso il cuore tutte queste quattro sfere sono collegate adesso conterò fino a tre e appariranno queste quattro sfere collegate con un triangolo verso il basso con il vertice al tuo cuore e uno e due e tre perfetto ti trovi nel tuo punto zero nel punto di perfetto equilibrio dove finalmente l'infinito trova il suo finito e il finito trova il suo infinito qui puoi comprendere che tu stesso sei Dio e sei co-creatore di tutto l'universo ti rendi conto in questo punto zero che tu sei immortale onnipotente e onnisciente puoi fare tutto ciò che vuoi qui comprendi che la tua mente è solo uno strumento per comprendere il cuore il vero motore adesso ti chiedo di memorizzare in ogni singola cellula del tuo corpo la sensazione che stai provando in questo momento registra ogni singola emozione che stai provando adesso in modo da avere una memoria perenne del tuo reale punto zero nei momenti in cui ti sentirai fuori centro o avrai bisogno di qualsiasi cosa ti basterà far tornare la memoria questa precisa emozione questo preciso stato di centratura e benessere dove sei perfettamente consapevole di essere tu stesso Dio perfetto siamo giunti alla fine di questa meditazione assapora qualche secondo ancora questa fantastica emozione e stato ricentratura che provi adesso e quando conterò fino a tre puoi riaprire gli occhi con i tuoi tempi e riportarti con te questa esperienza unica e questa reale conoscenza di come tutto è stato creato e di come funziona l'universo e uno memorizza ogni singola emozione nelle tue cellule ti basterà solamente portare a gallo la memoria di questo momento in qualunque momento tu voglia e sarai perfettamente centrato e due il tuo corpo inizia a svegliarsi e sei pronto per tornare ad essere veglio e più felice e centrato che mai e tre grazie per questa meditazione quando te la senti riapri gli occhi loris e sicchetti e e a a a a a a a Grazie.